Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'Elysier di San Valentino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Ingredienti sono panna fresca per dolci, latte, cacao amaro, peperoncino in polvere, zucchero di canna, rum e aroma di vaniglia. Andiamo via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna e il cacao amaro ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte, la panna, l'aroma di vaniglia, il peperoncino in polvere ed il rum ed azionare il bimbi per 7 minuti 80 gradi velocità 3 Nel frattempo decorare il bicchiere. In piattina abbiamo versato del latte e le spegliette di cioccolato nell'altro piattino. mangiare il bimbi per il bicchiere. Mettere da parte. Versare nei bicchieri e servire. Elisir di San Valentino. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!